Lo sbaracco della discordia. A partire da stamattina circa 30 commercianti in centro storico a Piacenza hanno proposto il classico fuori tutto, in anticipo rispetto a quello ufficiale in programma alla fine del mese, il 21 e 28 marzo, organizzato da Unione Commercianti. Il gruppo di negozianti ha preferito muoversi in autonomia, proponendo una propria versione di sbaracco oggi e domani. Un modo così, un po' per muovere un pochino di più, ma dovendolo fare all'interno, a maggior ragione, si devono rispettare. Quindi non ci può essere affluenza di pubblico. La giornata sicuramente non ha aiutato perché c'è un freddo e un vento incredibile. Non è sbaracco. Lo chiamiamo sbaracco ma non lo è in realtà. Essendo una cosa all'interno non è che sia uno sbaracco perché la gente è abituata fuori, di conseguenza siamo un po' penalizzati. Comunque accettiamo tutto. Tra i commercianti c'è anche chi non è d'accordo con lo sbaracco, né adesso né alla fine del mese. Credo che non sia il momento più indicato per incrementare gli assembramenti e questo inevitabilmente li genera. Il periodo resta comunque difficile e gli affari non decollano.